Siamo con Eleonora Pariante, grazie, bentrovata. Grazie a voi, bentrovati a tutti, ciao. Intanto hai un libro in mano, di che si tratta? Questo è il libro di Papino, posso essere un po' figliuola? Questo è un libro che mio papà aveva in mente di fare, mio papà era un aiuto regista, ha lavorato nel cinema italiano dagli anni 50 agli anni 80, poi ha insegnato, insomma questo per dirla brevemente, e lui aveva intenzione di scrivere un libro nel quale narrare tutti gli aneddoti legati ai film che ha fatto, che però non sono del cinema, cioè, non so, lui ha lavorato con Rosi, è chiaro che Rosi del suo film delle mani sulla città raccontava i suoi aneddoti, quindi qui c'è un po' un dietro le quinte di una serie di film importanti del cinema italiano, molto divertenti, che spiegano un po' qual era il suo universo, un po' qual era il suo lavoro, quindi poi lui purtroppo è mancato prima di poterlo terminare, mamma, insomma, è stata tenace. E tra l'altro il titolo La meta di un sogno, insomma, la dice lunga, no? La dice lunga sì, anche perché negli ultimi anni da attrice sto scivolando lentamente, non si sa perché, verso la regia, e quindi... Infatti sei a teatro ancora, credo, con uno spettacolo che, insomma, rispetto ai tuoi personaggi televisivi è un po' diverso. Ti vedo preparata, si serve, è diversissimo. Sono informata sul toy boy di tua madre, che tra l'altro è qua dietro, ma non è lei. No, decisamente no. Sì, debuttiamo al Teatro dei Servi il 3 novembre. Beh, è uno spettacolo molto divertente, sì, nel quale io faccio, nel senso, interpreto il ruolo di una giovane, non più tanto giovane signora, che decide di sposarsi con un ragazzino tanto giovane. E vabbè, adesso poi, insomma, è molto divertente, sì, rispetto alla televisione, altro, altro. Ci divertiamo molto. E sei anche regista di questo spettacolo. Certo, sì, 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 sì. Questo spettacolo nasce poi due, tre anni fa, abbiamo fatto la regia, ho fatto la regia, e poi piano piano è cresciuto, infatti è diventato un'altra cosa in realtà. Sì, ho fatto la regia e devo dire che mi sono molto tanto divertita. E ho compreso che in realtà quello che mi viene bene nella vita, cioè di organizzare, di avere il cosiddetto quadro d'insieme, poi mi viene bene anche nel lavoro. Perché poi non è detto che se tu fai l'attrice 30 anni poi fai la regia, no? Dieci anni fa non me lo sarei detto questo, non era tra le mie aspirazioni. Cosa preferisci? Essere attrice, essere regista? Che domandone. Ora come ora, forse essere regista. Ma è una fatica improba però, cioè se rispetto alla fatica, essere attrice, perché l'attore fa meno fatica. Almeno in questo momento, in questo momento storico per lo spettacolo cinema e teatro italiano, per cui un regista è anche uno che compone il progetto. Insomma, in realtà, ecco, il passaggio per me da attrice a regista, c'è stato perché, almeno quello che ti dicevo prima, a microfono spento, diciamo per gli attori del mio calibro, no? Per cui non sei un nome altisonante, ma non sei neanche l'ultima ruota del carro. L'abitudine recentemente è sempre quella un po' di arrivare poi a comporre il progetto per lavorarci. E da lì poi piano piano è diventata regia, capito? Perché come attrice componevo, cerchiamo il testo, scrivi il testo, interpella i colleghi per farlo con te, cerca il teatro, oppure gira il corto. E alla fine ho scoperto che, insomma, mi viene... Non lo so come mi viene, no, non lo dico, hai posteri l'ardo a sentenza. Ti viene bene, ti viene bene. C'è qualcuno con cui avresti voluto lavorare? Anche che non c'è più, magari. Ma guarda, c'è, ci ho anche provato, che è Patrice Leconte, io parlo di italiani, poi adesso ci penso, insomma, però quello è quello, perché l'ho rincorso fino a Parigi, sono andata a trovarlo, mi ha ricevuto, abbiamo parlato, ho fatto un provino con lui e poi sono tornata in Italia. Mannaggia, non lo so. Possiamo dire allora che essere attore oggi è una gran fatica? È molto faticoso. È diventato, va a essere imprenditore di se stessi, tanto faticoso, sì, però tanto bello, a me piace tanto. Quando tutti mi dicono, ma ancora, all'edatù, ancora fatichi? Eh sì, perché mi piace, mi piace farlo, lo faccio bene, lo faccio con amore ed è una cosa che mi riesce bene, no? Dico, se dovessi pensare di fare altro, non c'è niente che potrei pensare di saper fare così bene, con tanto amore e tanta passione come questo mestiere. Senti, c'è un evento organizzato dal nuovo EMAIE domani, a partire dalle 10, qui nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, è un evento in cui si parlerà, si affronterà il tema della pirateria nel settore musicale e audiovisivo, cercando, insomma, di stimolare un dibattito, perché è un fenomeno che, insomma, sta danneggiando fortemente, no? Il settore. Ma secondo me il punto focale è il senso di responsabilità delle azioni, cioè delle persone. Le persone che fanno pirateria ai giovani, che scaricano, non si rendono, non comprendono, ma questo è un senso più ampio appunto del senso di responsabilità. Se le persone fossero davvero responsabilizzate su quello che vuol dire l'azione che tu compi, perché uno non si interroga, capisci, vabbè, un filmetto, una cosa, ne 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 ne, e invece poi è gravissimo, è gravissimo. È un danno veramente di dimensioni molto grandi. Allora ti aspettiamo domani. Come no, senz'altro. Già ho scritto sull'agenda, nella quale ho numerosissimi impegni, non solo come attrice, ma anche come appunto imprenditora di me stessa. Grazie. Grazie a voi. Ciao.